E riaccoci a FloraSky, allora oggi cercheremo di finire il labirinto, sì non la chiamo base del timirlo perché è più che altro un labirinto, porca miseria Allora, cerchiamo di trovare la via d'uscita Dato che nella scorsa parte non siamo stati capaci di farlo Bene, benissimo Dimmi che siamo arrivati, ti prego, ti prego Ho solamente un punto di Air Slash? Usiamolo Bene, almeno Aia Benissimo Ora Dottore Eh, Clang come lo metto? K.O. Punto, cioè non è che... Aia Mettiamo Ragnarok Usiamo segno raggio, speriamo di mandarlo K.O. Oh no, neanche per sogno Dai, forza Non ci credo, non è andato K.O. Perché ho usato Thunderbolt, cavolo? Ah, bene Ok No, dai Vai giù Va No, che cavolo Adesso un attimo, facciamo un piccolo cambio Mettiamo Ragnarok davanti Sì Ti pareva, ti pareva Questa sono due Electrod No, dai Ti prego Almeno ho fatto un critico Almeno Master Ball Aspetta, ma non ce l'avevo già la Master Ball Ma Due Master Ball Va bene Meglio di niente Meglio di niente Vorrei dire che ci catturerò due Legendari Cos'è questa? Ma che cavolo Una Nest Ball? Perché una Nest Ball? Pensavo che fosse tipo qualche apriporta Qualcosa di importante Ma Ma non Non ha senso Qui devo tornare da dove sono venuto In pratica E vai Abbiamo trovato un'altra via Adoro Adoro trovare le vie giuste Forza Vai K.O. Senza troppi convenevoli Andiamo Benissimo Benissimo Wailord Giusto Ragnarok Eppure paralizzato Perfetto Dai 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 Ok No Frustrazione Vicolo cieco No Dove cavolo devo andare? Ok Ok qui sotto abbiamo esplorato E non c'è nulla Ok Ok No Ok aspetta 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 un attimo No 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 Qui si torna all'inizio No 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 Oh uffa Devo rifarmi tutta la strada Ok Ok qui non si va Quindi uno di questi due Di sicuro Un attimo Qui da che parte si va? Agli switch Scusate se faccio silenzio Ma devo concentrarmi Per capire dove devo andare È qui che devo andare Cavolo mi si è interrotta la musica Ok È qui che devo andare Che cavolo ma Ah c'è il muro Ok devo assolutamente Trovare la combinazione Degli switch giusta Forse così No Niente Uffa Ok adesso dite che va bene no cavolo non so se così va bene ah ma ce n'è pure un altro a me come lo raggiungo quello ah 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 come cavolo si fa oh ce l'ho fatta ok ok toglietevi di mezzo ho fretta vi avete fatto sprecare troppo tempo qui dentro ah andiamo ragna rock non è il momento di fare lo scemo oh andiamo oh andiamo ragna rock e muori oh perfetto perfetto levati ah c'è un'altra cavolo ti faccio fare la fine del rati che ti gheri hock non l'hai capito ma è inutile che mi usi sdoppiatore ti faccio surf e muori ti faccio surf e muori cavolo non ce la faccio più stare dentro a questo cavolo di nascondiglio del cavolo cavolo se io non mi interessa che mossa di tipo acqua su un pokemon di tipo acqua non mi interessa non mi interessa devi morire muori 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 no ancora non muori non usare desiderio oh protezione oh protezione più desiderio come ti permetti e muori e muori ora se gli switch non hanno tolto quel cavolo di mura o lo sfondo con i trucchi oh dio sia lodato anzi archeas sia lodato ora sicuramente ci sarà da affrontare il boss oltre a questi due qua quindi do prima di tutto un bello strumento a te e ti metto come compagno decu va benissimo perfetto vai lotto in doppio allora dovete crepare velocemente forza forza ok già tu muori ho detto muori no andiamo no forza forza oh ho congelato e muori ma togliti non ti registro nel pokenav dov'è 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 che potessi rimandarmi all'entrata lì avrei veramente tirato giù ghiratina di alga e tutti gli altri qua adesso dove diamine devo andare no 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 non ci credo non ci penso proprio no no ah che vuoi sei già qui ok sì sì sono già qui bene 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 ok 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 sì mi polverizzerai ma sicuramente guarda 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 tutto a petto nudo che sciattone che sei dai iceberg non muore e che cavolo rainbow oh non flinciare no 47 vai no acid armor no ah politod cavolo scusami devo farlo porca miseria ok ho capito basta no dio andiamo oddio non ci credo no non ci credo cavolo ma perché sopravvivono no ecco è scappato il boss perfetto wow si è lanciato in acqua tu che cavolo sei martin ciao d'lars l'ultima acqua aveva un nascondiglio qui ma nooo davvero questo non è accettabile ok sì vuoi vuoi inseguirli beh credo credo che tu prima abbia bisogno della macchina nascosta dive sub sarebbe ok va bene perchè mi chiamo adesso questo e qui cosa ci dovrebbe essere nulla bene ok ora devo uscire però bene mio dio due parti infernali qui dentro e scusatemi se sono stato abbastanza nervoso ma stare troppo tempo in un posto mi mmm ok e per oggi ci fermiamo qui nella prossima parte faremo altro a quanto pare però ancora con il timidro in mezzo purtroppo e con i pokemon praticamente quasi tutti livellati a parte vabbè rainbow che gli manca un livello e due master ball ci salutiamo qui alla prossima e poi allora il mio dio che è stato fatto ora la